Una giornata particolare, quella di oggi. Anche in Roseto degli Abruzzi ci sarà un'iniziativa, o meglio, c'è un'iniziativa importante in occasione della giornata e delle memorie del 27 di gennaio. Oggi verrà proposta la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Ho ricevuto dalla Giunta ieri la determinazione appunto a proporre al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Vita Liliana Segre. Quindi al prossimo Consiglio, sicuramente all'unanimità, il Consiglio si esprimerà su questa proposta che mi è pervenuta dal Sindaco in prima persona. Scelta che è ricaduta in occasione proprio della giornata della memoria. Sì, certo. Abbiamo deciso di ricordare questa giornata, di celebrare questa giornata, proponendo di conferire quella che è la più alta onorificenza che la nostra città conosce, cioè la cittadinanza onoraria appunto, a colei che oggi è uno dei pochi superstiti della terribile tragedia della Shoah e quindi è un monumento vivente dell'Olocausto e come tale deve essere onorata, anche per il suo impegno nella trasmissione del valore della memoria alle generazioni più giovani. C'è bisogno di memoria, dobbiamo custodirla e dobbiamo celebrare le persone che hanno fatto sì che questa ci fosse e continuasse ad esserci. Quindi questa per noi oggi è la giornata di celebrazione della figura della senatrice a vita Iliana Segre, per la quale è stata richiesta anche la cittadinanza onoraria. L'Olocausto deve essere ricordato, non può essere mai dimenticato e dobbiamo continuare a parlarne, a ricordare quei giorni bruttissimi della storia dell'uomo. Come farlo? Abbiamo pensato di ridare dignità alle cassette dei libri disposte su tutto il territorio comunale, anche nelle frazioni verranno consegnati lì dei libri di Iliana Segre e di tanti altri autori. Qui ringrazio Fabio Di Marco per la sua consulenza in merito che ha donato alla città, acquisteremo questi libri da destinare alle cassette, alle biblioteche delle scuole medie e superiori del territorio e anche alla nostra biblioteca comunale che deve tornare ad essere il centro della cultura rosetana. Grazie a tutti.